Wow! Guardate Lola! Pattina in maniera gattastica! Ehi, Lola! Sei miciovigliosa! Ti ringrazio, Lampo! A dir la verità, per me è davvero facile. Pattinare è un po' come danzare. No, purtroppo noi non siamo bravi come te. Ma se lo diventassimo, potremmo sicuramente vincere a gatto ghiaccio contro boss. Puoi insegnarci a pattinare, Lola? Oh, ma certo, amici mici! Sarò la vostra istruttrice! Per pattinare ci vuole grazia, calma e molta leggerezza. Per prima cosa aprite e chiudete le punte. Movimenti lenti ed eleganti. Il sentiero è perfetto per mettere in pratica ciò che vi insegnerò. Milady, che ne dici di aprire le danze? Non è come nuotare in acqua, Milady! E nemmeno come fare un giro sulla bicicletta, Pilù! Su, coraggio, amici mici! Seguitemi! Come vi dicevo, pattinare è come danzare! Con grazia, calma e molta leggerezza! Ho messo io i miei amici mici in questa situazione? Devo dimostrargli che io so pattinare! Oh, oh, no! Aiuto! Non riesco a controllarmi! Milady, ricordati grazia, calma e molta leggerezza! Oh, no! È micioviglioso! Oh, no! Siete stati bravi, Buffy Cats! Avete dimostrato di essere dei pattinatori esperti! E il nostro allenatore avrà già pensato alle strategie di squadra! Non è vero, Lampo? Beh, io, io! Ma certo! Oh, oh, sì, Lola! Sì! Non sono certo di farcela, ma devo mostrarmi in sicuro con i miei amici mici, altrimenti non vinceremo! Oh, mamma gatta! Speriamo di non fare brutta figura durante la sfida! Ma siamo i più bravi, vero, Lampo? Ma certo, Buffy Cats! Ci siamo allenati così tanto! Sì, certo! Noi possiamo vincere! Eccoli i nostri Buffy Pardenti! Avete visto, Buffy Cats? È il cesto dove deve finire la palla per segnare i punti, ma tanto non segnerete mai! È meglio non miagolare vittoria troppo presto! Qual è la prossima mossa, Lampo? Avanti, Lampo! È il momento di incoraggiare la squadra! Per me? È meglio che scendano in campo Pilù e Polpetta per iniziare! Avete sentito, l'allenatore! Coraggio! Dovete mettercela tutta! Dovete solo passarvi la pallina... e lanciarla! Sì! In bocca! Durante la gara ricordate tutti i miei insegnamenti e di sicuro nessuno potrà battervi! Sì! Iscriviti al canale!